Oggi lunedì 6 giugno 2022. Buongiorno. Il Corriere della Sera pubblica a pagina 8 l'intervista al generale di brigata Nicola Conforti, vice capo del secondo reparto del comando generale che si occupa della protezione estera dell'arma dei carabinieri. Il generale Conforti spiega che a Kiev opera la seconda brigata mobile dei carabinieri che comprende anche il reggimento paracadutisti Tuscania e il gruppo di intervento speciale a guardia dell'ambasciata italiana. Il generale raggiunge che l'arma ha acquisito competenze a sostegno dello sviluppo delle forze di sicurezza di vari paesi stranieri sulla base di protocolli accordi internazionali siglati dal comandante generale su delega del capo di Stato Maggiore della Difesa. La Verità presenta a pagina 8 l'intervista al generale Marco Bertolini, già al vertice del comando operativo Interforze della brigata Folgore, in occasione della presentazione del suo libro Guerra e Pace al tempo di Putin. Per il generale Bertolini la guerra rappresenta il conflitto esistenziale tra la Nato e l'ex patto di Varsavia, con lo scontro tra Putin e gli Stati Uniti. Il generale aggiunge che le armi inviate all'Ucraina hanno illuso Zelensky di poter vincere, impedendo la negoziazione con molti meno morti sulle spalle. Nessun aiuto può infatti colmare la sproporzione tra i due stati in guerra. Le discussioni sul conflitto ucraino continuano ad agitare la maggioranza. L'allarme arriva principalmente dal Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha infatti specificato di non volere far cadere il governo, chiedendo però di bloccare il riarmo e l'escalation militare. Il dissenso dei pentastellati potrebbe tradursi in un voto contrario in Parlamento il 21 giugno, a cui potrebbe contribuire anche la Lega. Ieri Matteo Salvini, da Buccinasco, ha fermato «Basta alle armi, all'Italia conviene la pace», attivando la rete di pontieri per evitare un crollo durante il voto e la probabile caduta del governo. Chiara la linea del ministro alla difesa Guerini. «Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina e rafforzare il confronto per far cessare le ostilità e impostare un negoziato vero». In occasione della giornata mondiale dell'ambiente, Sergio Mattarella ha lanciato un doppio allarme sull'ambiente, ma anche sulla guerra in Ucraina, evento che si sta ripercuotendo inevitabilmente sull'agenda degli impegni per contrastare il cambiamento climatico. Il capo dello Stato ha quindi chiarito che il destino di uomo e ambiente sono connessi e che il disastro umanitario in scena in Ucraina potrebbe avere conseguenze terribili in altri ambiti globali, come ad esempio quello alimentare. La politica estera Kiev torna nel mirino di Mosca. Nella mattinata di ieri la capitale dell'Ucraina ha subito un nuovo raid di missili che hanno colpito delle officine ferroviarie. Mosca ha specificato che gli obiettivi erano carri armati forniti da alcuni paesi dell'est Europa, ma gli ucraini hanno negato la presenza di armamenti nella zona colpita. Possibile che il raid sia stato motivato dalla volontà di distruggere vagoni adibiti al trasporto del grano. Gli Stati Uniti hanno reagito alle nuove iniziative russe convocando per il 15 giugno a Bruxelles il terzo incontro della Ukraine Defense Contact Group che riunisce 40 paesi a sostegno di Kiev. Almeno 50 persone sono morte in un attacco in una chiesa cattolica ad Owo, cittadina a 350 km da Lagos, in Nigeria. La strage è avvenuta durante la messa di Pentecoste e finora non è stata rivendicata da nessun gruppo. I sospetti ricadono però sui fulani, pastori islamici residenti nel nord del paese e che si stanno spingendo sempre più verso il sud alla ricerca di nuove terre. Papa Francesco ha rivolto una preghiera verso le vittime della strage arrivata in un momento di festa. Economia e Finanza, Confindustria, torna all'attacco sul lavoro, a guidare l'offensiva il presidente Bonomi, che dal palco del Festival dell'Economia ha criticato il ministro del Lavoro Orlando e la sua mancanza di proposte. Per Bonomi negativo anche il governo sulle riforme, il cui percorso avrebbe subito un rallentamento. Il leader degli industriali ha infine specificato che il salario minimo è un tema che non riguarda Confindustria, che pagherebbe già 9 euro l'ora come minimo, mentre ha rilanciato il cuneo fiscale. Sul lavoro sono filtrate nuove indicazioni anche dal premier Draghi, favorevole a discutere di cuneo fiscale e salario minimo, ma che ha posto come condizione un cambio di clima per poter inaugurare un tavolo con le parti sociali. Intervistata dal messaggero, la ministra Maria Stella Gelmini rassicura sul PNRR, specificando Con il decreto di maggio abbiamo steso una cintura di sicurezza. Il piano aggiunge potrà subire modifiche, su cui l'Europa sta specificando gli spazi di manovra, ma non dovrà essere stravolto. La titolare degli affari regionali si esprime anche a favore del taglio al cuneo fiscale, evitando però la spirale prezzi-salari, come già sottolineato dal governatore di Banca d'Italia, Visco. Gelmini chiede anche di togliere l'IRAP per le aziende, chiarendo infine che il bonus a 200 euro è una misura a una tantum, ma che in futuro il governo continuerà a sostenere le famiglie. Ed è tutto.